oh ecco il famoso gamberone alla tirrenese con la sabbia ci va la sabbia e tirrenia direttamente la sabbia dell'arno dove esce l'acqua dell'arno vedete un'altra cucchiaia di sabbia gli fa buono gli fa buono questo gli sarà il menù di 27 maggio ai piccadilli con toscana maremma maialalai vedete qui siamo ai piccadilli stanno cucinando diciamo questa specialità e la maialalai insomma ma andiamo a fare adesso il famoso salmone vedete olio di rame 15 40 questo gli è l'olio dell'alfa romeo vedete questo invece è quello della golf a diesel gli è più concentrato gli è più cremoso vedete un limone di tirrenia cortivato esclusivamente nei bagnasciuga di tirrenia vedete con l'acqua d'arno mi raccomando con l'acqua dell'arno perché gli da diciamo le pantecane e topi gli danno diciamo un sapore più ambrato più speziato un cucchiaino questo gli è l'olio della panda vedete che specialità ragazzi questo fa bene vedete che 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 buontà che acquolina in bocca pigliamo adesso il nostro salmone pescato nel porto di viareggio vedete a viareggio sono famosi per salmoni per salmoni di mare e si va diciamo a tagliare a tocchetti vedete con la buccia vuol lasciare la buccia sanno una sega a pisa come si fa a fare il salmone solo a tirrenia e tirrenessi sanno farlo ma andiamo a fare adesso il nostro orzo perlato questo è un orzo ragazzi erba gatta erba gatta fatta diciamo va lavata con le mani con queste mani lerce vedete questa è l'acqua diciamo proprio di mare di tirrenia presa dal mare e noi ci si lava questa erba gatta le carote le carote mi raccomando fresche vedete una sciacquata gli si dà una sciacquata e si mette a nitte cave andiamo adesso a rimestagnene vedete che acquolina in bocca non vedo l'ora ad arrivare ai 27 maggio per andare piccadilli o se avete toscana maremma maiala live con lo spettacolo con le mani lerce doppiaggio comico bucaioli se venite a cena prenotate 18 euro a cranio cena tutto pesce opposta il tavolo con visibilità dello spettacolo se no voi venite dopo ingresso gratuito con consumazione obbligatoria voi fate una beuta o se una beuta e rizzati e rizzati e guardate lo spettacolo che specialità ragazzi noi si avvierà alle 21 e 30 precisissime precise alle 21 e 30 gli avvia lo spettacolo per chi vuol venire a mangiare a cena la cucina l'apre dalle 7 alle 9 bucaioli c'è l'arzelle cerca l'evento su facebook e clicca parteciperò calma almeno 11 28